Salve a tutti! Ecco qui finalmente realizzata la nostra sorgente di segnale a tensione costante. Come ci siamo detti nello scorso video sono andato a realizzare le due schedine, una che monda lo stadio di rettificatore-duplicatore di tensione con l'amplificatore operazionale modificato e l'altra che monda sempre lo stadio di raddrizzazione-duplicatore di tensione con il moltiplicatore di capacità. Sono andato inoltre a riporre su questa tavoletta, oltre alle due schedine, anche il trasformatore di ingresso, il potenziometro con cui andiamo a regolare la tensione di uscita e i due jack di uscita. Sono andato a mettere il jack di colore nero sulla massa del circuito, mentre quello di colore più non si riferisce alla tensione positiva, ma si riferisce alla tensione variabile, perché in questo caso può variare sia in verso positivo e negativo. Quindi in questo caso i colori di questi due jack non fanno riferimento alla polarità della tensione. Infine si può notare qui su scheda la presenza del piccolo trimmer con cui andremo a regolare il guadagno dell'amplificatore operazionale. Adesso andremo a fare qualche piccolo test e con l'oscilloscopio andremo a vedere qualche forma d'onda. Ho collegato il circuito all'oscilloscopio, ovvero ho collegato la sua massa alla massa del circuito e la sonda all'uscita. Ed ecco qui qualche forma d'onda, ovvero è costante. In questo momento abbiamo che l'uscita è di 1,10V. Se adesso io vado a girare il potenziometro, andando in verso negativo, vedete che adesso l'uscita si porta su meno 1,16V. Diminuisco un po' la scala dei tempi così è più veloce. Ok. Quindi ecco qui. Molto bene. Quindi potete vedere adesso il discorso che si faceva prima della sensibilità. Ovvero io andando a muovere leggermente il potenziometro vado a regolare sui millivolt. Se adesso io invece vado a girare l'altro trimmer, adesso aumento la scala se lo poi non vediamo. Se io porto al massimo il guadagno dell'amplificatore, vedete? Adesso raggiunto l'uscita negativa massima, ovvero meno 11,7V. E io adesso girando il potenziometro, sempre fra il suo minimo e il suo massimo, ho un'escursione che va da più 11,3V a meno 11,7V. Quindi in questo caso ho diminuito la sua sensibilità perché devo spostarmi su tensioni di valore maggiore. E questo è appunto la funzione che vi dicevo prima di quel trimmer che diminuiva o aumentava la sensibilità. Quindi nulla, come si può vedere il circuito funziona perfettamente. Molto bene. Quindi come abbiamo potuto vedere il circuito funziona perfettamente. E sarà uno strumento davvero utile nella fase di debug. Per quanto riguarda invece adesso la parte finale del progetto, ovvero come facciamo sempre, l'analisi degli errori che si sono commessi. Beh, questa volta c'è una bella novità. Ovvero, non sono stati riscontrati errori. Ho montato le schede, le ho saldate, le ho collegate e sono partite al primo colpo. Funzionanti perfettamente. Quindi sono abbastanza contento. Sarei tentato a dire che stiamo diventando più bravi ma in realtà penso solo che si tratti di un colpo di fortuna. Di solito quando le cose partono al primo colpo è solo fortuna perché non partono mai al primo colpo. Rispetto ai progetti precedenti invece sono riuscito a migliorare l'interconnessione fra le schede. Infatti sto adottando adesso questo metodo, ovvero quello di fare queste unioni con i pin tramite i fili che li rende scollegabili ed è molto più comodo. Ma mi sto attrezzando per fare tutti i collegamenti con queste tacchette che sono dei 2x3 pin femmina. E sono molto più comodi. Anche per i componenti li sto mettendo tutti così perché se nella fase di debug comunque quando accendo la scheda dovessero bruciarsi o scoppiare, essendo questi prototipi, queste schede sono tutte prototipi, è molto più comodo estrarre il componente danneggiato e sostituirlo velocemente invece che andarlo a dissaldare. Quindi sto adottando adesso questo metodo, vedremo se ha delle controindicazioni, ma attualmente per questo progetto mi sono trovato davvero molto molto comodo. Molto bene, quindi questo progettino può definirsi concluso, sono abbastanza soddisfatto. Un saluto e alla prossima!